ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi vi parlerò di royal blend riserva è un liquido di un'azienda italiana una giovane azienda italiana la royal blend questo che andremo adesso a vedere è in formato da 10 ml con 4,5 mg di nicotina ma ci sono anche in vari diciamo dosaggi di nicotina c'è anche a 9 se non mi sbaglio a 12 insomma io ho preferito prendere quello a 4,5 che mi appaga di più e lo sto provando sull'aspire zelos kit quindi con nautilus 2 il liquido viene presentato dall'azienda come un liquido al gusto di tabacco secco quindi non dolce e con un lieve con una lieve nota di liquirizia amara se intanto io faccio la prova olfattiva in effetti si sente il profumo del tabacco e poi della liquirizia proprio non la liquirizia quella a caramelle per dire che non ha niente a che vedere con la vera liquirizia ma con la liquirizia vera profumo è molto buono io già mi sono portato avanti l'ho inserito nel tank della spire nautilus 2 lo sto provando a 16,5 watt ora adesso alzo un po il vattaggio ottimo ottimo davvero c'è il gusto è davvero particolare perché non è dolce si sente quel tabacco rotondo così e poi quando sto per finire diciamo di fare il tiro si sente quella nota di liquirizia amara che è davvero buona wow ottimo ottimo davvero complimenti buonissimo viva il made in italy quando è così davvero ci sta eccezionale detto ciò ragazzuoli io ve lo consiglio se vi piacciono i tabaccosi con queste caratteristiche che vi ho descritto il liquido è questo royal blend riserva lo trovate in vari negozi sia online fisici quindi il potere insomma io vi do appuntamento al prossimo video se vi va lasciate un mi piace iscrivetevi al mio canale youtube vi faccio ultima sbavata e ci vediamo ciao e alla prossima